In questa edizione del DNews, due falsi ciechi che negli ultimi dieci anni hanno percepito in totale 200.000 euro, truffando l'Inps, sono stati scoperti a Catania dalla Guardia di Finanza. I due truffatori ricevevano un'indenità di accompagnamento di circa 800 euro al mese ciascuno. La dia di Catania sequestra 300.000 euro a Daniele Amato Musarra, residente a Belpasso. L'uomo era stato arrestato insieme ad altre nove persone nell'ambito dell'operazione Tuppi. Aeroporto, Metropolitana, Trasporti Urbani sono stati temi affrontati durante il congresso provinciale della Filt CGL. Ambiente e lavoro, interventi formativi nella provincia di Catania, convegno organizzato da Fondi Imprese e CISL per presentare i dati emersi da un progetto che ha interessato 72 aziende. Lo sport è in caduta libera, quale strategia per ripartire, incontro organizzato da Catania al Vertice. Da oggi apre in città lo sportello Tributi dell'Adi Consum per offrire assistenza ai consumatori nel settore della tutela verso multe, cartelle sattoriali e altro. Mondo ragazzi è il mondo dei più piccoli. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Armani, Aston Martin, Barberi, Guess, Armo in Blaine, Hogan, Ugo Boss, Levis, Liu Jo, Mona Lisa, Moschino, Nanan, Patrizia Pepe, Superga, Timberland, Tots, USA Polo e tanto altro. Da Mondo ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo ragazzi si trova a Catania in via Pola 19, a De Grigento in via Tenea 22 e a Sciacca in via Licata 95. Mondo ragazzi, amici d'infanzia. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania in due distinti interventi hanno scoperto due falsi ciechi che hanno indebitamente beneficiato negli ultimi dieci anni dell'indennità di accompagnamento per un importo complessivo di 230 mila euro. Nell'ambito delle attività a tutela della spesa pubblica è stata avviata una serie di controlli sull'erogazione di indennità a carico dello Stato in favore di persone colpite da cecità assoluta, dall'incrocio delle banche dati e dai preliminari approfondimenti eseguiti. L'attenzione dei militari è stata attirata, tra l'altro, dal fatto che uno dei soggetti avesse presentato una denuncia di smarrimento della carta di circolazione. Sono quindi scattate le indagini più mirate per verificare la posizione del soggetto e di un'altra persona, anche questa beneficiaria di analogo sussidio. Le attività investigative, durate alcuni mesi, hanno evidenziato che due persone, una di 67 anni e l'altra di 57 ciechi assoluti per l'Inps, conducevano una vita normale, muovendosi all'aperto in modo disinvolto e guidando senza alcun problema la propria autovettura. Gli appostamenti eseguiti e i filmati realizzati hanno permesso di accertare come i due si muovevano autonomamente, evitando ostacoli, attraversando la strada senza alcun ausilio, facevano persino tranquillamente la spesa al supermercato, attendendo quindi a tutte le normali attività quotidiane. I due falsi invalidi hanno percepito per 10 anni più di 800 euro mensili per la presunta minorazione patita, arrecando così un danno alle risorse erariali destinate a garantire il necessario supporto economico a chi soffre realmente di infermità. Le fiamme gialle, pertanto, hanno denunciato all'autorità giudiziaria catanese i due finti ciechi per truffa aggravata ai danni dello Stato, informando contestualmente l'Inps di Catania per l'immediata sospensione del beneficio. La Direzione Investigativa Antimafia di Catania, a seguito di una proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale, formulata dal direttore della DIA Arturo De Felice, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro beni emerso dal Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, nei confronti di Daniele Musarra Amato, di 43 anni, nativo di Castel di Iudica e domiciliato a Belpasso. Nello scorso settembre, l'uomo è stato tratto in arresto unitamente ad altri nove soggetti nell'ambito della operazione Tuppi, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L'inchiesta aveva consentito di mettere in luce l'esistenza di un'articolata associazione dedita all'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti a Catania. All'interno dell'organizzazione criminale trovavano collocazione in posizione verticistica Gaetano Nicotra, rientrato a Mister Bianco dopo un lungo periodo detentivo, scontato in regime di arresti domiciliari a Ravenna, fratello del più noto Mario Detto Utupo. Nell'indagine è emersa inoltre la figura di Daniele Musarra Amato, che oltre a gestire in proprio le attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti, aveva il compito di reperire e rivendere la droga per conto dei Nicotra, con i quali progettava importazioni di ingenti quantitativi di cocaina da smerciare per lo più sul mercato catanese. A seguito di un'articolata attività di indagine patrimoniale tesa a verificare le modalità di acquisizione del patrimonio riconducibile al Daniele Musarra Amato, la Direzione Investigativa Antimafia ha avanzato una proposta di misura di prevenzione personale e patrimoniale che il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, ha recepito emettendo ai sensi della normativa antimafia il relativo provvedimento di sequestro. Sul versante patrimoniale è stata accertata l'assenza in capo all'uomo e ai suoi familiari e conviventi di risorse lecite, idonee a giustificare gli investimenti posti in essere nel contempo, con cospicua e generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. Con il provvedimento adottato a carico del Musarra Amato è stato disposto il sequestro del patrimonio riconducibile a lui, al momento stimato in circa 300.000 euro, tra cui figurano in particolare due aziende operanti nel settore della commercializzazione di autoveicoli, un immobile, conti correnti e disponibilità bancarie. Numerose vistosissime anomalie sono state riscontrate nella procedura svolta dal professionista delegato dal giudice per la vendita all'asta della casa del muratore di Ragusa, Giovanni Guarascio, che per evitare lo sfratto si diete fuoco e morì alcuni giorni dopo in ospedale. Emerge da indagini della Guardia di Finanza che, su disposizione del procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, ha sequestrato l'immobile ancora in uso alla famiglia e lo ha affidato alla vedova di Guarascio. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per diverse ipotesi di reato, turbata libertà degli incanti, estorsione e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso. Il tragico episodio risale al maggio del 2013, quando nel tentativo di respingere l'aggiudicatario della casa venduta all'asta, Orazio Sciagura, il muratore si versò addosso liquido infiammabile e si diete fuoco. A causa delle gravi ustioni morì nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva. Oggi nel suo congresso provinciale la Filt CGL affronta il tema quali trasporti, quali infrastrutture nell'Italia della crisi. Ovviamente i riflettori sono puntati sulla regione siciliana, qual è la risposta che vi siete dati? La crisi ha colpito la Sicilia in maniera più drammatica rispetto al resto del paese. I dati generali e quelli delle statistiche dimostrano come in questi anni la Sicilia si è allontanata ulteriormente dal resto del paese. Questo vale per il fatto che si sono perse le occasioni che consentivano interventi infrastrutturali in generale, ma noi pensiamo soprattutto nel settore dei trasporti e si sono dequalificati per questo verso, ma anche per carenza di risorse che sono sempre venute meno, dei servizi di trasporto che invece dovevano essere e potevano essere qualificati. Tutto questo impone alla regione di intervenire se realmente vuole affrontare i problemi del riavvio, dello sviluppo e della lotta e un contrasto efficace alla crisi economica. Noi pensiamo che il settore dei trasporti possa essere realmente il settore anticongiunturale che ci consente di poter rilanciare questo tipo di attività. Vale per le persone, per il trasporto delle persone, vale anche per il trasporto delle merci, partendo dal fatto che la regione si deve adeguare ad un piano regionale dei trasporti che mette insieme tutti i vettori e tutti i settori che possa rilanciare attraverso questo tipo di iniziativa una qualificazione reale che superi gli sprechi che invece continuando in questa maniera si continuano a determinare. Secondo lei al momento questo governo regionale ha l'intenzione di andare a coprire questo gap che si è venuto a creare negli anni sui trasporti e sulle infrastrutture? Fino a questo momento ha dimostrato di non esserlo. Anzi, noi pensiamo che non abbia dedicato la giusta attenzione a questo settore, non so se per insensibilità o per incapacità, ma si è rivolto in tutt'altra direzione. Speriamo invece che possa realmente recuperare questi ritardi perché noi pensiamo che questo debba essere invece il settore a cui dedicarsi perché in questa maniera si possono riavviare le attività economiche. Guardando proprio alla Sicilia, secondo lei qual è l'infrastruttura che dovrebbe essere realizzata subito, nell'immediato? Ma dovrebbe essere realizzata per quanto riguarda il nostro settore, avendo abbandonato l'idea di costruire il ponte sullo stretto, che era un'idea finalmente abbandonata, io credo che quelle risorse che là erano dedicate è possibile metterle per riammodernare il sistema ferroviario, e quindi un'infrastruttura ferroviaria moderna, si possano completare le grandi infrastrutture viarie che sono rimaste incomplete negli anni e si possa dedicare anche la possibilità di costruire e di completare l'ammodernamento delle grandi infrastrutture aeroportuali e portuali di cui per esempio Catania in questo momento è impegnata nel suo rilancio. Firmato il protocollo d'intesa per la valorizzazione delle città d'arte della Sicilia, tra l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Maria Rita Sgarlata e il segretario generale dell'Associazione delle città d'arte e cultura Ledo Prato, il CIDAC che associa le principali città d'arte e cultura ha condotto, insieme al Ministero per i beni culturali e il turismo, una politica di valorizzazione del patrimonio culturale, dei centri storici, dei musei e delle aree archeologiche. Ma finora la Sicilia e le sue città d'arte erano rimaste escluse per via della competenza in materia affidata alla regione. Ora invece, grazie alla firma del protocollo d'intesa, l'attività di valorizzazione delle città d'arte sarà estesa alla Sicilia a partire da Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Noto e Ragusa. Si tratta di un passo avanti importante, dice l'assessore Sgarlata, che connette la Sicilia con il resto del paese sul piano della promozione delle città d'arte, attivando politiche e progetti costruiti con la partecipazione attiva della regione siciliana e delle città coinvolte in funzione di una strategia di sistema e di un potenziamento dell'offerta culturale. Questo protocollo va inteso, precisa l'assessore, come una piattaforma comune e condivisa per le città siciliane d'arte e cultura già associate, tra cui Catania, e per quelle che potranno associarsi nel tempo per concertare politiche di valorizzazione. Nel breve termine, con la legge destinazione Italia riservata alle città entro i 150.000 abitanti, si potranno avviare progetti nel medio e lungo periodo per il nuovo ciclo 2014-2020. Ambiente e lavoro, interventi formativi nella provincia di Catania, è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina, organizzato da Fondi Impresa, CISL e gli enti capofila di progetti di formazione e informazione MC Sicilia, Forma Italia Challenge Eventi. I progetti hanno interessato 72 aziende e 598 lavoratori su tematiche di natura ambientale connesse alle aziende di riferimento. Sono stati portati a termine nei vari settori con un maggior interesse delle aziende dell'acquedottistica, impiantistica, agricole, edilizie e chimiche. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati i dati sui settori ad alto rischio ambientale, con le cifre su Catania, che è la provincia siciliana con il più alto numero di stabilimenti considerati a rischio di impatto ambientale. Voi avete realizzato dei progetti con 72 aziende, di cosa si tratta? Noi cosa facciamo? Coinvogliamo quelle che sono le esigenze formative di queste aziende sulla tematica particolare che è quella dell'ambiente. Quindi creiamo dei percorsi formativi che possono aiutare sia l'azienda nello sviluppo dei piani strategici di marketing che riguardano proprio la tematica ambientale e soprattutto i lavoratori che devono qualificare le loro competenze per adeguarle a queste che sono le nuove esigenze anche del mercato del lavoro. Alla fine cosa è emerso? È emerso che la tematica ambientale ha particolare rilevanza e tra l'altro l'opportunità di poter fare formazione su questo tema a costo zero per le aziende e per i lavoratori le metto in una condizione di creare un sistema competitivo in cui si può sfruttare questa, diciamo, la tematica ambientale proprio come progetto di sviluppo di nuovi business per le aziende. L'argomento è particolarmente sentito dalla Cislet Nea specialmente dopo le recenti notizie di cronaca sul processo per i presunti veleni che sarebbero stati depositati a Passo Martino nella zona industriale di Catania. Da qui si lancia anche l'allarme su quello che è l'ambiente anche dopo i recenti fatti di cronaca che hanno parlato di presunte discariche di veleni in zona Passo Martino, provincia di Catania. Il tema legato al rispetto dell'ambiente per noi è fondamentale. Il fatto che si crei un maggiore controllo soprattutto rispetto agli scarichi dei siti industriali diventa anche una grande opportunità in questa fase di difficoltà e crisi che stiamo attraversando anche per lo sviluppo di nuovo impegno lavorativo, di nuove realtà che possono essere impegnate e collocate nei controlli ma soprattutto nella prevenzione. E quindi partiamo dai gravi fatti accaduti, diventa un gravissimo danno per la salute di tutta la collettività del nostro territorio, scoprire che esistono depositi di rifiuti altamente pericolosi nel nostro territorio. Però diventa una grande opportunità per alzare il livello dei controlli e per impegnare risorse, quindi nuove persone, nei controlli ma soprattutto nella prevenzione. La CISL come commenta i risultati emersi dal progetto? Sono risultati molto positivi. L'utilità dell'evento di oggi sta non soltanto nella possibilità di esaminare in concreto le maniere più utili per diffondere la consapevolezza fra i lavoratori ma anche quello di informare gli altri imprenditori che è possibile fare buona formazione senza spendere quattrini propri ma utilizzando invece gli strumenti messi a disposizione dai fondi interprofessionali segnatamente da fondi impresa per poter realizzare attività di elevazione della capacità di lavoro dei propri lavoratori, di qualificazione dei loro lavoratori anche nel rispetto dei temi ambientali sempre più importanti anche per la vita delle imprese. Anche a Catania l'emergenza abitativa è costituita dalla domanda di alloggi non solo di chi non ha casa ma di chi paga sempre con più difficoltà il canone d'affitto e la rata del mutuo ipotecario. Nell'ultimo decennio gli affitti sono cresciuti del 100% in sintonia con il dato nazionale. Il 70% delle famiglie ha un canone di mercato e il canone medio di 500 euro con un'incidenza sul reddito medio di più del 45%. Le richieste di esecuzione di sfratto sono state 2.559, gli sfratti eseguiti circa 1.000, l'85% dei quali per morosità. Il trend di crescita è del 50% in più per il 2013. Più di 2.000 sono i senza tetto, oltre a coloro che hanno scelto il nomadismo. Sono solo alcuni dei dati divulgati sabato pomeriggio nel corso del congresso del Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari che ha riconfermato segretaria generale Giusy Milazzo. Tema dei lavori, un patto per l'edilizia sociale, la sostenibilità degli affitti, la qualità dell'abitare. Non possiamo non evidenziare l'assenza di una politica regionale sulla casa e la mancata riforma degli istituti case popolari, ha sottolineato Giusy Milazzo nella sua relazione. La scelta di evitare l'interlocuzione e il confronto con le organizzazioni intermedie è profondamente sbagliata e denuncia debolezza e arroganza, tanto più che il confronto può solo costituire un'occasione di arricchimento e un'opportunità per varare provvedimenti condivisi e partecipati. Il Sunia è contrario alla scelta di svendere il patrimonio abitativo pubblico, ha proseguito Giusy Milazzo, scelta che sembra tanto attrarre gli esponenti politici e i rappresentanti dei governi locali. Questa posizione dimostra una scarsa comprensione dell'attuale fase socio-economica e dell'entità e della composizione del disagio abitativo. Lo sport in caduta libera, quali strategie per ripartire? È il tema dell'incontro organizzato da Catania al Vertice, il consorzio che riunisce 17 società sportive d'eccellenza con l'obiettivo di fare squadra per promuovere e sostenere lo sport e che si è svolto stamattina presso il Grand Hotel Baia Verde di Catania. Lo sport è sinonimo di aggregazione, condivisione, turismo e risorsa economica, si è detto stamattina da parte dei vertici del consorzio. Oggi purtroppo registriamo nel capoluogo etneo diverse criticità che non consentono di valorizzare lo sport e di utilizzarlo quale strumento di rilancio del territorio. Dall'inadeguatezza degli impianti alla carenza dei fondi e finanziamenti, passando per la perdita di valori e modelli da seguire, nonostante l'eccellenza delle squadre etnee ci ritroviamo a fare i conti con la crisi del comparto. Abbiamo fortemente voluto questa tavola rotonda per analizzare insieme agli interlocutori istituzionali e del settore possibili strategie per fare ripartire la macchina dello sport catanese. Queste le richieste avanzate dal mondo dello sport durante la conferenza di stamattina per voce del segretario generale FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Fabio Pagliara. Mi sembra una richiesta di concretezza e quindi alla regione sostanzialmente un piano che tenga conto davvero della possibilità di intervenire verso le società non più in maniera a pioggia o con contribuzione ma con qualcosa di più pratico, potrebbero essere viaggi aerei o servizi che esposino la trasparenza ma che consentano agli sportivi siciliani di essere assolutamente uguali agli sportivi delle altre parti d'Italia. All'amministrazione comunale la possibilità di varare in tempi stretti una sistemazione del regolamento, delle convenzioni e in particolar modo un riordino del piano tariffario. Credo che le proposte siano chiare da parte del consorzio e la richiesta da parte dell'amministrazione è quella di essere concreti nel poter dare in tempi stretti delle risposte. Come amministrazione per esempio stasera stessa alle 7 incontreremo il Sine, la storia al bilancio per capire quali sono poi i passaggi reali per poter sviluppare questo tipo di risposte, per dare delle risposte che consentono alle società di non cadere in una situazione molto complicata. Il grido d'allarme è forte, c'è la preoccupazione per finire il giorno di ritorno, per iscriversi l'anno prossimo, quindi quello di oggi non è soltanto un convegno ma un grido d'allarme che le amministrazioni debbono cogliere in senso costruttivo. Ecco invece l'impegno che il Comune oggi si è assunto nei confronti degli sportivi. Ne ha parlato l'assessore comunale allo sport Valentina Scialfa. L'individuazione di un percorso al fine del miglioramento ovviamente delle richieste da parte delle società, da parte degli sportivi, da parte della città, perché questa è un'esigenza che viene poi dalla città. Individuato così come il Sindaco che mi ha preceduto ha già sottolineato nel dialogo, nel lavoro importante sulla riorganizzazione delle tariffe in sinergia in parallelo con quella che sono le convenzioni delle impianti con modello già sperimentato, quindi riuscire a dare i nostri impianti direttamente alla società. Questo è il percorso che questa amministrazione ha individuato, chiaramente compatibilmente con i tempi organizzativi e gestionali che riguardano tutta la macchina in toto. Questa amministrazione ha già dato delle risposte circa la riflessione scolastica, ha dato delle risposte circa l'asilinido, ha dato delle risposte circa i musei, darà delle risposte circa ovviamente allo sport. Tutti questi sono servizi a domanda individuale, quindi hanno delle, come dicevo poco anzi, non solo esclusivamente dei vincoli burocratici, perché non li chiamerei così, ma dei vincoli importanti normativi in un comune che ha un piano di rientro con un 36% con ovviamente sentenze della Corte dei Conti molto importanti e quindi sono dei servizi a domanda individuale. Durante l'incontro è stata ufficializzata la sinergia tra Catania al Vertice e Teleton Catania per la Maratona di Solidarietà a sostegno della ricerca Walk of Life che si svolgerà nella città etnea nel mese di maggio. Nasce da oggi in via ufficiale uno sportello tributi della D-Consum, l'associazione che fa parte della Cisle che si trova in via Manzoni 81 a Catania. Voi sarete aperti ogni lunedì dalle 9.30 alle 12 per i consumatori. Cosa serve lo sportello? Chi si può rivolgere a voi? Tutti i contribuenti che hanno dei problemi con riscossione Sicilia per la ricezione di cartelle, previste di fermo, ipoteche, possono venire da noi per avere la consulenza necessaria per vedere come possono direggere a questi atti, se ci sono degli strumenti da mettere in atto anche in forma di autotutela e se l'autotutela non è sufficiente o non è richiesta in quelle circostanze si può fare un ricorso direttamente agli enti, commissioni tributari, giudici di pace, secondo il tipo di tributo di cui si tratta, perché ogni tributo ha la sua problematica, ha la sua prescrizione, ha la sua decadenza e quindi ha la sua autorità giudiziaria a cui rivolgersi in caso di opposizione. La problematica è abbastanza vasta e cerchiamo di dare un supporto a tutti i contribuenti che praticamente sono parecchi che vanno allo sportello e talvolta non ricevono delle risposte esaurienti. D'altra parte non possono dare delle risposte che vanno contro le stesse istruzioni che dà l'azienda e quindi sono limitate nelle risposte, danno solamente le cose che possono dire ufficialmente ma per quanto riguarda opposizione e cose non possono dire niente allo sportello ma noi invece daremo tutta la tutela necessaria per assisterli sotto questo aspetto sfruttando anche una recente normativa che c'è di dicembre 2012 che prevede un'istanza in autotutela direttamente alla riscossa in Sicilia la quale poi la inoltra ai vari enti impositori che dovevano dare una risposta su quell'istanza in autotutela certo ci devono essere i presupposti che il contribuente per esempio abbia pagato qualche cosa abbia una sospensione da parte dell'autorata giudiziaria oppure già nel frattempo sia prescritta diciamo quell'imposta o quel tributo, quello di cui si tratta diciamo quindi abbiamo una problematica abbastanza vasta e cerchiamo di aiutare i contribuenti sotto questo aspetto. C'è da dire che voi non date soltanto una prima consulenza e basta voi seguite proprio nel qualora naturalmente si possa andare avanti il contribuente in tutte le fasi che dovrà svolgere quando arriva per esempio una cartella o una multa eccetera? Allora noi diciamo diamo la consulenza ai contribuenti fino all'autotutela diciamo la gestiamo noi nel momento in cui bisogna rivolgersi all'autorata giudiziaria abbiamo i nostri legali a cui loro si possono rivolgere o se hanno i propri legali si rivolgono ai propri noi diciamo diamo l'impeccata, l'indirizzo, quello che devono fare poi sono i contribuenti a decidere Grazie a tutti